A missione con riserva al prossimo torneo calcistico di terza serie la richiesta dei vertici del club Città di Campobasso alla Lega Pro in vista del campionato 2022-2023 slittato ufficialmente a domenica 4 settembre con conseguente spostamento a data da destinarsi per i turni iniziali della Coppa Italia nella lunga espasmodica attesa dell'udienza del Consiglio di Stato fissata giovedì 25 agosto sul ricorso ultimo dei Rosso Blu l'amministrazione a Palazzo San Giorgio non lascia nulla di intentato per mantenere quantomeno nel catino di Selvapiana l'interregionale lasciato appena un anno fa da vincitori nel girone adriatico con al timone Mirko Cudini passato a luglio sulla panchina della Fidelis Andrea Ai piedi del Monforte il primo cittadino Roberto Gravina ha annunciato la pubblicazione del bando per eventuali manifestazioni di interesse da parte di imprenditori privati o associazioni sportive per l'iscrizione della società al campionato di Serie D Un annuncio preventivo che anticipa da Roma l'eventuale verdetto di condanna a lasciare il professionismo da parte del Consiglio di Stato sul ricorso della città di Campobasso Visti i tempi ristrettissimi la procedura esplorativa dovrà concludersi la mattina del giorno 20 per consentire il rispetto dell'eventuale termine poi assegnato da parte della Federcalcio nazionale qualcosa insomma si sta muovendo dalle stanze della politica nel capoluogo di regione per salvare il salvabile una vicenda è che i tifosi avrebbero tranquillamente fatto a meno di assistire e commentare quest'estate dopo il positivo campionato del ritorno in Serie C atteso dopo oltre 30 anni Grazie a tutti